Ma si possono fare delle figure del genere? Buonasera ragazzi, buonasera ragazze, la breaking news di oggi, che la Juve ci ha fregato Bremer, così, così, da un giorno all'altro, in due giorni, in 48 ore, siamo riusciti, e fa già ridere così, io veramente, ieri di balla, dici vabbè tanto, vabbè, gli attaccanti li abbiamo, farsi sfuggire Bremer così, brucia un po' il sederino, soprattutto quando te lo prenderà Juve, quello sì, Suning propone, Zhang propone 30 milioni più Casa Dei in prestito, con diritto di ricompra, poi ripropone, non è che propone soldi in più, no, Casa Dei in vendita, proprio fisso, così, non è che aggiunge soldi, a parte che a me girerebbe un po' tra via uno giovane così, che tutte le volte, giovani, 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 poi alla fine i giovani li diamo sempre via così, no? Arriva la Juve, ne offre 40, più 7 bonus. Trattativa finita, Bremer ha già cambiato idea, Bremer-Inter, 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 di Bala-Inter, di Bala-Inter, Bremer-Inter, 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 di Bala-Roma, Bremer-Juve. Cioè, proprio, Fabio Bergomi mi sa che chiuderà il canale stasera, perché veramente si è fatto una figura, si è fatto una figura, si è fatto una figura pazzesca. Ragazzi, ieri dicevo c'è altro di cui incazzarsi, ma oggi, con una cosa del genere, va bene ieri, ci passi anche sopra, ma oggi, oddio, oddio, non so se passarci tanto sopra. Ora vediamo Skriniar, e Skriniar a questo punto deve rimanere, perché se Skriniar va via, se Skriniar va via, se Skriniar va via, questo qua, di che materiale sarà fatto? Di metallo? Io questo lo spezzo. Sono capace di spezzarlo se Skriniar va via. Arrivate a questo punto. Io ho già avvisato. Dopodiché, dopo di che, non so cosa farò. Skriniar va via, in queste che non abbiamo preso Bremer, allora sì che qua ci si incazza davvero al 100%, perché già rinforzi una favorita al campionato, allo scudetto di per sé, perché Juve rimane sempre una delle favorite. Juve ha fatto proprio delle mosse veloci, è venuto dei liquidi a 80 milioni, cosa è un po' eccessivo. E il PSG non offre altri soldi, oltre 60, 65, ancora in trattativa, non si capisce bene cosa sia successo. Fatto sta che adesso, cara società, ti devi aspettare dei tifosi incazzati. Eh sì, ora sì, perché alla fine che cosa devi fare? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Io veramente non so che dire. Fatto sta che ci sono fatti fregare due giocatori nel giro di 48 ore, il che sembravano sicuri da più di un mese, ma forse da gennaio, quasi da gennaio si parlava che tutte e due, sia Dybala che Bremer dovevano giocare all'Inter. Di Bale non è arrivato perché Sanchez non si vuole andare via. Questo è quello che ci ha fatto capire. Poi bisogna vedere. Certo che se... insomma, se non vuoi... fare aste, non vuoi spendere soldi in più. Insomma, Bremer poteva far parte di un bel futuro da parte dell'Inter, perché comunque è giocatore giovane, in Serie A se ha dimostrato un buon difensore, ma... Ragazzi, boh, che aggiungere più? Vedremo come finirà sto mercato. Fatto sta che c'è da preoccuparsi, forse sì, forse sì, perché ora non sappiamo più che pesci prendere, perché due giocatori sicuri, poi dopo devi li sfumare così il giorno di poco tempo. Soprattutto che Bremer, che se ne va una squadra rivale alla Juve, beh, si rinforzano le altre. Che devi fare? Ha voglia lì stare a guardare le foto, quello ha messo il like, Bremer ha messo il like sulla foto da caricatura, aveva a dare che Dybala forse già si sapeva che aveva l'accordo con marotta, che aspettava, che dice quante cose, quanti giornali, quanti siti hanno sparato, hanno sparato tutte le storie possibili, incastri... e poi l'Inter è rimasta senza niente. Ragazzi ci vediamo alla prossima, vedremo un po' come andrà avanti il mercato, ma... insomma, c'era un po' da preoccuparsi, non lo so, lo dico, ma... se ti sfuma Bremer così dà un po' fastidio. Quello sì, quello sì. A presto ragazzi, chiedevi al canale, sempre forse a Inter, e vediamo un po' quali saranno gli sviluppi di questo calciomercato benedetto, maledetto, per noi in queste ultime ore. Guarda così. A presto, chiedevi al canale, ciao. questo è stato famoso! Grazie.